Il DL Aiuti al DL Aiuti Il DL Carburanti, attacca l'esponente del governo Putin, intervistato ieri sera durante la trasmissione Zona Bianca su Rete 4. Per Draghi quella che si è visto su Mediaset non sarebbe stata una vera e propria intervista, ma un comizio senza contraddittorio. In particolare il presidente definisce osceno il paragone tra Zelensky e Hitler in base al fatto che entrambi sono ebrei come detto da Lavrov. Quello che abbiamo visto attacca ancora Draghi non è un granché professionalmente e fa venire in mente strane idee. Ieri Lavrov, dopo aver fatto il paragone tra il presidente ucraino e l'ex dittatore tedesco, aveva aggiunto, Da tempo sentiamo il saggio popolo ebreo che dice che i maggiori antisemiti sono proprio gli ebrei. La nazificazione dell'Ucraina esiste e ha sottolineato il ministro russo i membri del battaglione Azovano Svasti che si assulla loro uniforme che tatuate sul corpo, così come simboli dei battaglioni nazisti, dell'SS e poi apertamente leggono e sostengono il Menkampef. Per questo motivo è stato convocato l'ambasciatore russo a Tel Aviv, per chiarimenti dopo le gravi dichiarazioni di Lavrov, definite imperdonabili e oltraggiose dal ministro degli esteri Lapid. Secondo quest'ultimo gli ebrei non si sono uccisi da soli nella Shoah. Il più basso livello del razzismo contro gli ebrei è accusare gli ebrei stessi di antisemitismo. Durante l'intervista, comunque, Lavrov se l'è presa anche con l'Italia. Eravamo abituati all'idea che, grazie alla vostra storia, sapeste distinguere il bianco dal nero a detto. Grazie a tutti.